E il Crotone passa in vantaggio, 1-1, 7-6 nel terzo set, qui al palacro di Crotone, finale del terzo incontro del bellissimo Net Punto, finale, terza partita, sono sull'1-1 di queste semifinali playoff per l'accesso in B2, 8-6 per il Crotone, dai che vinciamo anche il terzo. 9-6, bellissima, bellissima, più 3 in questo terzo set. Le provano tutte le giocatrici del Reggio Calabria per fare innervosire un po' i Crotonesi ma anche i tifosi che fanno buu. Dai, quest'altro punto, dai, andiamo a 10. No, no, no così. Sì, sì, ecco il decimo punto.